Quei 6 milioni di euro previsti per l'ampliamento del Tribunale di Castrovillari passano in riva all'Oionio Cosentino come un messaggio di implicito diniego a chi ancora crede nella riapertura o nuova istituzione del Presidio di Corigliano Rossano. La notizia rischia di provocare un severo corto circuito istituzionale tra le parti in causa e nuove scintille territoriali. Il GAD parla di bugie di Stato. Una novità che sostanzialmente riporta in auge quello che noi abbiamo sempre denunciato, cioè il fatto che il Tribunale di Castrovillari non fosse capiente a contenere anche l'utenza del Tribunale di Rossano. Oggi con questo provvedimento che vede un impegno importante pari a 6 milioni di euro per l'ampliamento del Tribunale di Castrovillari è chiaro che tutto quello che noi abbiamo sempre denunciato e quando abbiamo sempre parlato di carte false e le denunce che abbiamo fatto alla Procura della Repubblica di Salerno ovviamente sono confermate. Domani in Commissione Giustizia al Senato inizia la discussione sui disegni di legge della geografia giudiziaria, il cui relatore sarà il senatore Ernesto Rapani. Per la Presidente del Consiglio Comunale di Corigliano Rossano, Marinella Grillo, già componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ora bisognerà trovare i fondi per la riapertura del Presidio Ionico. Bene ha fatto il Sindaco del Comune di Castrovillari a cedere le aree, bene ha fatto il chi di competenza per chiedere l'ampliamento del Tribunale, ma questo non esclude che possa essere riaperto un Tribunale della Sibaritide per un territorio così vasto come quello di Corigliano Rossano. Matteo Lauria per la Cinews24.